Continuavano a offrirmi da bere, non posso farci nulla se la gente mi trova interessante Certo, sicuramente erano tratti dal tuo cervello Ma che ti passa per la testa? Cosa? Pensavi che mi avrebbe fatto a pezzi o roba simile? Donna, non ho voglia di morire stanotte Oh, è noto Io e Don siamo rimaste bloccate qui A una gomma terra siamo senza scorta e speravo tanto che potessi venirci a prendere Questo posto ti piacerà da matti? Aiuto, aiutatemi Non devi dire una parola Avrei preferito essere morta Grazie a tutti Grazie a tutti